Il Covid non ha fermato gli appuntamenti teatrali estivi, divenuti tradizione nel corso degli anni. Anzi, in questo 2020, segnato dal virus, la stagione estiva al Teatro Romano di Gubbio ha offerto molti più spettacoli, oltre 25, rispetto alle ultime rassegne. Non solo quantità però, ma anche tanta qualità, come hanno dimostrato le serate sin qui trascorse, tra musica di vario genere, opera, danza ed ovviamente tante rappresentazioni teatrali, diverse tra loro ma tutte molto apprezzate dal pubblico. Già, perché uno scenario unico e aperto, come quello del Teatro Romano, calza a pennello con le attuali normative. E di fatti la cornice vista sin qui ha visto di media circa 100-150 persone occupare i gradoni dello storico monumento di età romanica. Escludendo la serata di radioteatro del bravissimo Luca Violini, dove il pubblico era assai minore, la città sta rispondendo con positività agli eventi offerti dall'organizzazione di amministrazione Mibac, assieme a Giugiu Servizi per lo spettacolo di Luca Berettoni, gestore del Teatro Comunale Ronconi. Il primo bilancio è positivo, con delle cadute, che andrà indagato perché ci sia stata questa caduta, però diciamo che complessivamente il bilancio dal mio punto di vista è positivo. Comunque la stagione è stata costruita dopo il periodo di quarantena e ci sono state mille difficoltà e abbiamo cercato di accontentare un po' tutti i pubblici. È una stagione per certi versi sperimentale, attraversata anche da contenuti importanti, da contenuti impegnativi e da contenuti invece più leggeri. Stiamo sperimentando, io sono contento e spero che comunque sia un crescendo, insomma ancora abbiamo tanti spettacoli da vedere insieme. Agosto vedrà più di una dozzina di serate pronte a caratterizzare l'estate gubina e sulle complessità di mettere in piedi questa particolare edizione post-covid, Berettoni risponde Sibillino. Caldo, caldissimo, tanto caldo, però la sera si sta bene, quindi insomma invito gli agubini a venire qui perché gli spettacoli sono tanti, sono belli, si sta freschi, si sta in compagnia e quindi è il posto ideale per passare le serate estive. E se ancora l'estate si prospetta lunga e calda, la mente degli organizzatori è già orientata verso la prossima stagione invernale a Ronconi, dove i progetti in ballo sono plurimi, tra cui spicca il percorso di didattica teatrale che avrà come Deus Ex Machina Massimo Verdastro, uno dei migliori attori di teatro dell'epoca contemporanea. Per l'inverno abbiamo un sacco di progetti, continueremo con quelli già in campo, con le varie collaborazioni e c'è questo progetto al quale io tengo molto, con Massimo Verdastro, lo chiamiamo convivio didattico e quindi un'esperienza che percorra tutto l'anno con cadenza mensile e attraverso questi laboratori affrontare, leggere dei testi teatrali declinandoli attraverso lo sguardo delle diverse discipline teatrali, quindi insomma attore, regista, tecnico teatrale, scenografo, illuminotecnico eccetera, quindi è un progetto sul quale punto molto.